È andato tranquillo perché è andato senza fatica, perché ti lascio la forma per le prossime gare. Adesso ti arriva anche il Ramadan, voglio riposare un po', ti arriva anche l'estate, sempre le gare così. Veramente sono molto contento, come la prima esperienza di mezza maratona non l'ho mai fatto. E oggi sono arrivato il secondo, quando sono arrivato al traguardo, veramente mi sono stato molto cotto, sono stanchissimo, non riesco neanche a camminare le gambe, sono stato molto stanco. Sì, soprattutto quando corri una mezza così, cerchi di fare un po' veloce, la sabbia è la parte più difficile. Poi col vento contro, fortunatamente sono rimasto un po' coperto e sono riuscito a uscire bene dalla sabbia. È la prima gara di 21 km dove non ho avvertito né fatica, né avuto problemi. Devo dire che anche durante il percorso ho trovato persone dell'organizzazione simpaticissime. È la prima gara che l'ho trovata molto divertente e non faticosa. La gara è abbastanza difficile, percorsi vari, pezzo sulla sabbia parecchio pesante e anche gli ultimi saliscendi finali spezza gambe, insomma. Non è stata facile, però l'abbiamo conclusa. Felicissima, non me l'aspettavo anche perché ho corso ieri sera alle 6 di sera, per cui avevo le gambe leggermente stanche. Per oggi non c'era il sole, quindi mi è andata bene, il percorso a me è piaciuto molto, un po' più difficile di quello che pensavo, nel senso che pur essendo in piana c'era la parte sulla sabbia che le gambe ne hanno risentito e la parte finale di sterrato che è abbastanza faticoso per me, avendo già le gambe stanche.